Salve a tutti. Non si è ancora placato il dibattito sul vincolo alla mobilità e all'assegnazione provvisoria introdotto dal legislatore per i docenti messi in ruolo dal 1 settembre 2020. Sono infatti in corso in questi giorni diverse manifestazioni in varie parti d'Italia da parte dei docenti vincolati che rivendicano il loro diritto alla possibilità di spostarsi dalle sedi di missione in ruolo, quantomeno sotto forma di assegnazione provvisoria. Sono finite nel nulla infatti i tentativi più o meno forti portati avanti finora per tentare di eliminare il vincolo alla mobilità e si è riusciti ad ottenere soltanto una riduzione da 5 a 3 anni del vincolo stesso. Tuttavia in prossimità della prossima procedura di mobilità si ritorna a parlare con molta forza del problema del vincolo e in questa fase potrebbe esserci un'occasione utile per tentare di risolvere il problema. Infatti ricordiamo che il vincolo è stato introdotto con un atto avente forza di legge e quindi soltanto con un atto di natura legislativa può essere rimosso non essendo sufficiente un semplice atto amministrativo e l'occasione è per intervenire rappresentata dal decreto mille proroghe con cui annualmente vengono affrontati problemi spesso anche molto spinosi. Quindi se effettivamente il braccio di ferro che in questo momento c'è tra i docenti vincolati e la politica può portare ad una soluzione, lo strumento utile è inserire una modifica alla norma all'interno del decreto mille proroghe che possa consentire sin dalla prossima procedura di mobilità a questi docenti di potersi spostare partecipando alle operazioni di trasferimento e successivamente a quelle di assegnazione provvisoria. Naturalmente la parola, l'ultima parola resta alla politica perché occorre una decisione forte per inserire una modifica all'impianto normativo che ha introdotto il vincolo proprio in occasione del decreto mille proroghe che va approvato entro il mese di dicembre. Vedremo come si evolverà la situazione. Vi invito a seguire i nostri canali social e il sito della tecnica della scuola per essere costantemente aggiornati. Arrivederci a tutti.